Sì, 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 attenzione allora, attenzione, sì, sì, è andato, è lì, i piedi, incresce, c'è il front flip, 360, riccio, mamma mia, è incredibile, una scivolata magari, no, no, una botta, una botta, ma è già in piedi, è già in piedi Mark, allora c'è il suo manager che in altrove ne ci dice, attenzione, lasciamolo riprendere ed è a posto, qui, per voi. Di dove va l'applauso! Allora, c'è qualche problema, voleva rassicurare, che lo rassicuravamo, ora va a vedere, quello che è riuscito a fare sicuramente ci sarà anche nel maxi schermo, e noi a Mark Borea! Borea! Guarda, guarda il replay, intanto c'è il replay, sul maxi schermo, front, rotazione, e infatti si è in 360, e poi, proprio un attimo, non è riuscito a chiuderlo per un... E' una piccolissima sbavatura, ma c'è già offerto, assolutamente, subito in piedi, ci vediamo, naturalmente, ai prossimi eventi, grazie a tutti, ciao Giro! Noi rinnoviamo l'appuntamento a livello 1 perché c'è il party di Monster Energy, la musica sta iniziando... Noi rinnoviamo l'appuntamento a livello 1 perché c'è il party di Monster Energy,